Cucinare decine di pietanze con il barbecue, dall'antipasto al dolce, a Santa Lucia di Roseto degli Abruzzi è possibile presso Agrifert Pinciotti. L'azienda nasce nel 1964 con il lavoro di molitura dei cereali e con un grande credo, la soddisfazione del cliente. In seguito viene intrapresa anche la commercializzazione e la vendita di mangimi, concimi, fitofarmaci e prodotti agricoli. Con il passare degli anni il giovane Giancarlo prende le redini della società, mostrando fin da subito la sua imprenditorialità e ampliando i prodotti trattati, come stufe, camini, forni, combustibili, barbecue e tanto altro. Al giorno d'oggi l'azienda è un grande punto di riferimento in tali ambiti, mantenendo sempre valori e tradizioni tramandate da padre e figlio. E siamo in compagnia di Sabatino Pinciotti, titolare della Agrifert, un'azienda di famiglia che nasce tanti anni fa, quasi 60 anni fa, è così? Sì, buonasera a tutti. La Agrifert nasce nel 1964 con il lavoro della molitura dei cereali. Successivamente la Agrifert si espande alla commercializzazione di prodotti come mangimi, concimi, fitofarmaci e ancora successivamente la Agrifert invece va a commercializzare prodotti come stufe, camini, forni, barbecue, ampliando la loro gamma di vendita. E poi qui siamo in questo showroom che è veramente molto bello e sono tanti i brand che voi trattate e che offrite poi alla vostra clientela, sinonimo di qualità, garanzia e professionalità. Certo, noi trattiamo principalmente marchi come Nordic Extra Flame, ma anche Clover, Nobis e Moretti Design, marchi diciamo leader nel settore del riscaldamento, stufe, forni, cammini e barbecue. Questa sera nello specifico qui parliamo del barbecue che è un oggetto anche molto desiderato e voi proprio per spiegare ai vostri clienti come si utilizza avete organizzato un corso addirittura. Sì, più che un corso è più giusto dire che abbiamo organizzato una vera e propria scuola del barbecue, infatti questa sera sarà presente l'Accademia dei Signori del Barbecue direttamente da Bologna che terrà nel nostro salone una vera e propria scuola del barbecue. Sabatino, all'interno di questo ampio e bellissimo showroom i clienti che cosa possono trovare? Allora, principalmente possono trovare stufe e termostufe sia a legna che a pellet. Si possono trovare forni delle migliori marche come Fontana Forni, Tranquilli Forni e Rosso Fuoco e barbecue delle migliori marche come Weber e Broilking. Ed ecco noi anche Denis Sameli, agente di zona della Broilking presente qui questa sera presso la Agrifert. Buonasera a tutti, sono soddisfatto di essere qui in rappresentanza dell'azienda Broilking, sono soddisfatto di avere questo genere, questo livello di rivenditori che oltre ad offrire un'esposizione, oltre ad offrire la consulenza nella vendita, una vasta gamma di accessori, addirittura mettono a disposizione dell'utilizzatore, dell'utente finale che ha già acquistato il barbecue, un corso per poter usufruire al meglio del prodotto. La consulenza è importante perché è necessario dare il giusto prodotto al cliente in base al tipo di utilizzo che ne deve fare. La bella stagione si sta avvicinando e il barbecue diventa il protagonista delle serate estive, dei picnic in famiglia. Ma facciamo un attimo un passo indietro, Broilking è un'azienda americana, ci fa un po' una panoramica su questa azienda? Sì, Broilking è un'azienda canadese per la precisione, che da oltre 40 anni produce nei propri stabilimenti di proprietà del Canada e degli Stati Uniti, barbecue di ottima qualità, tant'è che la garanzia sul prodotto è illimitata nelle fusioni e fino a 10 anni nei bruciatori che comunque sia sono in acciaio inox. Dennis, quali sono i vantaggi dell'acquistare un barbecue a gas e come funziona? Allora, il barbecue a gas è un dispositivo che ci permette di stare insieme, di cucinare, di divertirci con amici e parenti, con gustosissime cotture dirette, cotture indirette, affumicatore, il tutto senza fumo, perché cucinando senza fumo innanzitutto possiamo utilizzare il barbecue anche in condominio, cucinare senza fumo vuol dire anche cucinare in maniera più salutare. Che cosa si può cucinare con questo barbecue? Immagino possiamo fare arrosti e basta? Assolutamente no e lo scopo della scuola del barbecue è soprattutto questo, dimostrare che con il barbecue possiamo cucinare oltre alla classica salsiccia, alla classica bistecca, addirittura stanno facendo i popcorn, stanno facendo la torta, faremo il risotto, faremo il pesce, faremo tante altre gustosissime cotture. E per questa scuola di cucina, per questo evento, questa sera ci sono tante persone, tanti appassionati, addirittura intere famiglie, che sono a corse qui per capire come sfruttare al meglio questo strumento che in vista della bella stagione si rivela veramente tanto utile. Sì, assolutamente sì, siamo contentissimi perché il numero, abbiamo dovuto chiudere le prenotazioni qualche giorno dopo che le abbiamo pubblicizzate sui social, contiamo nei prossimi mesi di ripetere l'evento proprio qui da Agrifert e Pinciotti. Un consiglio per tutti gli appassionati di barbecue, quale può essere? Il consiglio è quello di appunto rivolgersi ai rivenditori specializzati e di approfondire la conoscenza di questo prodotto in modo tale da poterlo utilizzare al meglio e divertirsi appunto. Marco Montanari, docente dell'Accademia dei Signori del Barbecue, un'accademia antichissima, lo possiamo dire? Sì, è sicuramente una delle prime scuole di cucina di barbecue in Italia, nasce a Casalecchio di Reno in provincia di Bologna, su un'idea geniale secondo me di chi l'ha inventata, che sono la famiglia Guizzardi, che ha scoperto il modo per far funzionare i barbecue che sono in realtà un qualcosa di nuovo ancora per l'Italia, malgrado siano passati più di 25 anni, perché è un prodotto ancora che si tende ad usare come una griglia e non nel modo corretto. Quindi la cosa veramente valida è che la scuola serve per imparare le tecniche di cottura, cioè impara a usarlo nel modo migliore. È ovvio che se lo usi nel modo migliore hai una cucina perfetta, una cucina sana tra l'altro, perché in genere il barbecue è abbinato a una cucina che dà pensieri, in realtà la cucina a gas, il barbecue a gas è una cucina sanissima, è tutta studiata per evitare di fare fumo e di sporcare il barbecue, altra cosa che è fondamentale, perché se uno non deve pulire il barbecue è evidente che lo usa molto di più. E poi è la semplicità quello che sconvolge nei corsi, perché in realtà quando si finisce il corso viene la gente da me e ti dice ah ma io non avevo capito niente, perché in realtà bastano pochi piccoli accorgimenti per fare una cucina semplicissima, sana e veramente valida. Ed infatti lei ha scritto proprio un libro che si chiama Barbecue Facile. Sì, è una collana che si chiama Barbecue Facile perché effettivamente è il modo che insegna a cucinare, in questo caso io ho scritto quello sul pesce ma esiste, Gianni Guissardi ha scritto quello invece sul generico dove c'è dall'antipasto al dolce, esattamente quello che faremo questa sera qui nel corso, dai popcorn che stanno uscendo adesso, la pizza, il pane e il risotto, altra cosa molto curiosa che si fa al barbecue, questo per far capire che nel barbecue in realtà puoi fare qualsiasi cosa. Qual è la differenza tra il barbecue e la griglia? Il coperchio, il coperchio è fondamentale ed è la prima cosa che verrà detta nel corso. Sembra una cosa banale, in realtà assolutamente non lo è perché se vediamo qualsiasi film americano, la prima cosa che vediamo è questi barbecue con il coperchio aperto e queste fumane, noi invece facciamo il contrario, il coperchio è utilissimo perché la differenza tra il forno di casa e il barbecue è che nel barbecue entra continuamente aria umida, questa aria umida mantiene i cibi morbidi e questa morbidezza è la differenza enorme che c'è rispetto alle altre cotture. Quanto è importante però acquistare un barbecue di qualità come Broilking per far sì che poi tutte queste sue virtù si trasformino in qualità dei cibi che vengono cotti? Beh, la prima caratteristica è che primo si utilizza all'esterno, quindi deve essere un materiale che resiste all'esterno e in questo i materiali di Broilking sono eccezionali. L'altra cosa è che ovviamente il barbecue va a 400 gradi, 350-400 gradi, andando a queste temperature se i materiali non sono di un certo tipo il rischio è quello di dover cambiare continuamente i pezzi. Nei barbecue Broilking ci sono delle caratteristiche veramente incredibili come i bruciatori che hanno una garanzia e che è il motore del barbecue che hanno chiesto 10-15 anni, quindi è una cosa veramente inusuale per un barbecue. Per tutti i telespettatori di Reteotto le chiedo di condividere con loro e con me un segreto, uno per un ottimo barbecue. Allora, una cosa curiosa, se volete comprare un barbecue, è quello che mi insegnava il signore Broilking che ha conosciuto in Canada, lui ha detto fate una cosa, se volete comprare un barbecue prendete un biglietto da visita, alzate le griglie, alzate quello che c'è sotto, mettete sotto il biglietto da visita, rimettete la copertura e la griglia, se non leggete quello che c'è scritto sotto avete preso un buon barbecue. E Pasquale Falanga, chef dei signori del barbecue, ci dimostra che con questo barbecue della Broilking ha cucinato una pizza, non ci credo? In pochi minuti abbiamo cucinato una pizza classica napoletana in 7-8 minuti, è una bella macchina che riesce a cucinare velocemente a casa varie pizze in vari modi, se abbiamo anche delle persone senza glutine, possiamo fare un impasto senza glutine e farla a casa senza avere problemi del glutine. Eccola, una delle tante qualità che possiamo soffrire del nostro barbecue. Quindi lei mi vuole dire che in una calda serata estiva, per mettere d'accordo tutti i commensali, noi accendiamo il barbecue e chi non mangia la carne può mangiare la pizza? Sì, sì, proprio così. Se qualcuno dice ok, non vorrei carne, non vorrei qualche altra cosa, con un kit apposito del signore del barbecue, cioè il portapizza, si fa una pizza velocemente. Oltre alla pizza che si vede venuta veramente benissimo, quali sono gli altri piatti che avete preparato nel corso di questa serata? In corso di questa serata faremo dall'antipasta al dolce, di cui abbiamo ingerito anche l'aperitivo di Pop Gorra Barbecue, una cosa divertente, giusto per spezzare la serata, e facciamo tante varie cose, dal risotto alle verdure, alle cotture dirette e indirette, facciamo il pesce al barbecue senza fare fumo, direttamente qua, la piccagna che è un taglio di carne che è molto di moda ed è assaporita fatta al barbecue, la bistecca, tutte le varie verdure che non mancheranno, in più alla fine ho fatto una torta a cioccolato cotta al barbecue insieme alla Nassarum, perciò ce n'è tanto da mangiare. Veniteci a trovare, siamo a Santa Lucia di Roseto, saremo lieti insieme a voi di trovare la soluzione migliore per le vostre esigenze.